Peggy Sixteen Qui va bene? Sì? Ok, cominciamo Benvenuti a Hoenn Il paese delle grandi possibilità Il nostro campione ha finalmente finanziato più di 2000 posti di lavoro E ora l'intera regione sta vivendo un'epoca di ricchezza Ma questo non basta Ora che abbiamo le risorse settivo a un nuovo progetto Ho l'onore di presentarvi per conto del nostro amato campione Project Hydro e Project Magma Unitevi a questi due team per la ricerca e lo sviluppo E aiutateci a scoprire come migliorare ulteriormente la regione Sviluppando assieme a noi nuove fonti di energia rinnovabili e assolutamente sicure Attraverso la forza del sole e dei mari che circondano il nostro acirpelago Vi aspettiamo numerosi Grandi avventure vi aspettano in questa nuova regione Già due concorrenti salire sul palco Sì, tra i più rinomati scienziati del paese sono scomparsi in circostanze misteriose Mentre la polizia internazionale continua a non dare spiega Le statistiche indicano chiaramente che la ricchezza della regione di Euron È incrementata del 37% dopo l'arrivo del nuovo campione Che ha investito soprattutto nel settore dei trasporti pubblici La gente lo guarda con curiosità Soprattutto aspettando i progetti idro e magma Che verranno attuati nei prossimi mesi Grazie a tutti